Da lunedì 26 settembre a domenica 2 ottobre all'ex foro Boario si terrà la fiera di San Michele, dove insieme alle bancarelle verranno incorporate anche le giostre. Dunque, dopo varie verifiche, si è scelto questo sito, proponendo di svolgere in un'unica area tutta la fiera. Dopo la scelta che lascia per le bancarelle la zona del viale Regina Margherita e del Pian del Lago per le giostre, abbiamo chiesto ai cittadini nisseni cosa ne pensano di questo cambiamento ed è la scelta dell'ex foro Boario, chiedendo loro di raccontarci dove è il collocamento migliore e ricordi che hanno dei luoghi dove si è svolta la fiera di San Michele negli anni passati. Sicuramente in zone più centrali della città, quali potevano essere o via Rochester oppure via la Regina Margherita. Ho capito che crea problemi alla viabilità cittadina, però sicuramente era di maggiore fruibilità. Che io mi ricordi la collocazione migliore è al via la Regina Margherita. In quanto si sente più a casa uno avendo questa fiera in quella zona. Per me il foro Boario è molto dispersivo, molto lontano e molte persone non andranno sicuramente perché è molto lontano e quindi sarà più che altro l'occasione per i giovani andare là in quella fiera. Ma io sono nostalgico, il ricordo più bello che ho è quella in via Rochester. Certo i tempi sono cambiati e magari per motivi logistici è stato scelto quest'altro sito che però è un po' fuori mano, fuori sede. Altra locazione era quella in via Regina Margherita, vicino al cuore della città. Comunque è sempre una gioia la fiera di San Michele che porta insomma molte persone non solo da Caltanissetta ma anche dai comuni vicini a riportare persone in città.